Purtroppo. Che occhi aveva la morte a Genova, a New York, in Afghanistan, a Baghdad? Che occhi aveva la morte nel teatro di Mosca? Che occhi a Beslan, a Guantanamo, a Madrid? Che occhi aveva la morte a Londra? Che occhi a Cittagoc, ad Atene? Che occhi ha la morte a Gaza? Che occhi, ditemi, che occhi ha la morte? Che occhi? Che occhi ha la morte? Gli stessi occhi che hanno inquinato, globalizzato, stuprato, illuso, imbavagliato, cattolicizzato, imbabolato, prostituito, avvelenato, venduto, ucciso, comprato, massacrato, addomesticato, il mio paese, il nostro.